musica 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 bene continuiamo il nostro giro la ragazza è qui chi ha detto? è morto ma? ma? ragazzo è inzampato è inzampato nelle scale oddio ho capito cosa che mi danno se rompo tutti i medagliani blu che ti danno? io mi dissocio io mi dissocio completamente ma vi sembra normale? ok eh ma non mi ricordo eh ti dico io vai prendi gli ingredienti a fai che succede a questi ingredienti? eh raga non riesco a prenderli eh se lo capirete perchè? adoro questo gioco è stupenda deve essere l'incanto però sammy guarda cosa dovrei fare? no spiegamelo ti prego ma non ti vedo ancora aspetta che non ti vediamo ancora bellissimo eh dovrebbe essere quello che ti occupa oh mio dio cosa dovrei fare esattamente? ti sei incastrata? eh si dimmi sopra la tua testa hai un'abilità di tenere in equilibrio il libro fantastica che è il vaso? rompiamolo 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 ok perchè non funzioni mai si guardate si come? mi sento proprio che ho voglia di bullizzare qualcuno c'è mai home vai ahahahah sai che tu hai scelto la persona sbagliata forse forse c'è qualcosa qui F ah no F F F F F e niente F orco ma sei comoda? ehm no ti vedo leggermente cioè non serve sdraiarsi sulle mie gambe mi sembra un po' esagerato cioè siamo una coppietta cioè sei sempre mia cugina ah no aspetta aspetta fermo eh fermo un attimo mi sembra un po' un po' comace nooo non è normale secondo me ma no no a me me lo segna in piedi aspetta certo polliniamo fine le sofferenze stanno ripompando gli studenti? sì allora aspetta ok mettilo decentemente allora la famosissima crema levitiva ok una dovrebbe essere messa abbastanza decentemente no non cadere non cadere ma non caderebbe ma non caderebbe ma non caderebbe ma non caderebbe tutti i punti per quanto si sembriamo stupidi Eh, non so, mi sembra un po' too much come ricerca partita Perché si sta cercando una grande partita Una grande partita stiamo cercando Sì, ma si sbagherà o rimarrà così? Rimane così per questa partita Ma stiamo trovando qualcosa o perché è buggato e non trova niente? No, no, a trovarlo la trova Poi dice che qua l'altese è tra meno un minuto Eh, niente Stiamo a 50 secondi Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti Io cosa ho fatto? Sono qua con voi No, mica a te, a loro De uguale Nessuno ha notato niente È esattamente tutto come era sempre stato Sempre i quadri che dopo diranno tutti i professori Sono con l'ascia Corro il normale Anche dopo che uso l'ascia Corro il normale Passo questo Corro il normale Appena lo uso Corro così Poi Manco di Manco di Che hai fatto qualcosa Che hai buggato tutto Non hai fatto nulla Si è buggato adesso No, hai dei bellissimi capelli Vorrei farti la una coda Va bene Vai Ok Grazie a tutti Mi chiamo un cibo Sembra 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 E Trovore, ducce, che è un video mio, eh? Sì, non è vero, non è vero, non è vero. Ehi, come c'è? Abbiamo qua l'accatrice dell'ETA dei video di Cucina da Cristin Dovrei rispondere a 5 domande che ancora mi hanno fatto Sì, buon po' te lo mostrerò Dovrei rispondere a 5 domande Devi mostrare il video E un'altra wino! No, no, silenzio un attimo Signori, adesso potete notare Shen che appare Oh ragazzi, siamo troppo forti Troppo forti, regà, mamma mia C'è veramente Jan, grandissimo Jan Grandissimo Shen, è stato un mid in sta partita Un mid, il video! Non mi fai mai ridere quante cose ho fatto Easy Tutto merito di Shen, comunque Fermo, voglio vedermi quanto ho fatto, scusami Ciò che è il mio modo? Aspetta, aspetta Non so neanche io il lead, anche volendo Io non devi dirlo a me, Shen Unding Sì Di